Mettiti comodo, fai un respiro profondo e rilassati, respira, rilassati. Porta la tua attenzione sulle spalle, dove percepisci tensioni che si allentano, i pesi si alleggeriscono e le tensioni si allentano sempre di più. Rilassati e lascia che pian piano il corpo si abbandoni sempre più profondamente. Respira, rilassati sempre più profondamente. Immagina di essere in uno spazio dove c'è luce ovunque, un po' come se il sole ti stesse scaldando e illuminando dall'alto. Rilassati. 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 sempre di più e diventi sempre più parte di questo spazio infinito, di questo amore infinito. Tutto è amore, tu stesso sei amore. Rilassati, percepisci questa meravigliosa sensazione di essere amore nell'amore, sei infinito come questo spazio. Pensa a quante cose sarebbero potute andare diversamente, quante volte le tue aspettative sono state disattese, quante volte ti sei giudicato per avere sbagliato, per avere fallito, per non essere stato all'altezza, per essere diverso da quella immagine di perfezione che ti sei creato. E' arrivato il momento di riconoscere te stesso, di scoprire che quella immagine perfetta non esiste. E' arrivato il momento di scoprire chi sei veramente. E' arrivato il momento di accettarti. Ed amarti Per come sei Per imparare Che sei perfetto Proprio nella tua imperfezione Che ti rende unico La colpa La colpa Implica un giudizio Nasce Da un giudizio Ma tu Sei nato per amare Non per giudicare Gli altri E' soprattutto te stesso Assolviti Assolviti Perdonati Amati Il perdono è molto di più di una soluzione è accettare è amare è riabilitare ad essere degni di gioia e di amore e allora adesso con Virtual Mind è arrivato il momento di perdonarti e riscoprire che sei perfetto proprio così come sei e adesso ripeti mentalmente queste dichiarazioni d'intento io qui ed ora mi perdono per ogni volta in cui ho creduto di essere sbagliato io qui ed ora mi perdono per aver permesso ad altri di definire me stesso e dirmi come dovevo essere io qui ed ora mi perdono per essermi giudicato invece di amarmi io qui ed ora mi perdono per aver permesso al senso di colpa di condannarmi io qui ed ora mi perdono per aver scelto di notare i miei difetti anziché anziché i miei pregi mi amo e mi accetto per quello che sono io qui ed ora esprimo la mia essenza senza aspettarmi di essere giudicato nemmeno da me stesso io qui ed ora sono degno di luce e di amore e finalmente mi permetto di risplendere come merito io qui ed ora sono degno di luce e di amore e finalmente mi permetto di risplendere come merito immagina che dall'alto arrivi una sfera di luce e questa sfera di luce pian piano raggiunge la tua testa e al contatto la illumina di una luce infinita portando alla mente tutte queste prospettive che hai appena elencato dove la sfera scende raggiunge il tuo petto e al contatto una luce infinita si espande dal tuo petto che impara che impara la sensazione di tutte quelle prospettive che hai appena elencato ed ora dal tuo petto questa meravigliosa luce infinita si espande il tutto il corpo portando ad ogni cellula l'emozione fisica legata alle prospettive che hai elencato l'immagine mentale l'emozione fisica e la sensazione nel cuore creano il tuo vero me libero dal senso di colpa finalmente in grado di amarsi immagina di essere sotto una cascata e una doccia di luce ti ripulisce ti fa brillare e ti rende luminoso come mai prima d'ora sei meraviglioso sei brillante sei amore e ricorda io qui ed ora sono degno di luce e di amore e finalmente mi permetto di risplendere come merito e adesso pian piano respirando riprendi contatto con la realtà fisica in cui ti trovi sapendo che l'amore e il perdono che ti sei appena concesso si fanno spazio in te permettendoti di risplendere sempre di più ed ora quando ti senti pronto riapri gli occhi respira e porta questa meravigliosa pace interiore nella tua vita a attra a l'amore a la a a a a Grazie a tutti